Dal 9 all'11 giugno al Maschio Angioino si terrà Napoli Moda Design, un lungo weekend dedicato alla tradizione sartoriale e all'oggettistica di arredo che vedrà in mostra l'estro creativo di stilisti e artigiani. La natura è il tema ispiratore dell'evento curato dall'architetto Maurizio Martiniello, autore anche delle installazioni artistiche che durante la tre giorni saranno allestite nel cortile del Castelnuovo. La natura come ispirazione sia dal punto di vista del tema della natura ma anche dal punto di vista proprio della sensibilità che noi abbiamo sviluppato col tempo con la natura e quindi tutto quello che noi rappresentiamo tutti i giorni, queste installazioni saranno delle torri in acciaio come se ingabbiassero alla natura ma che la natura ovviamente con la sua forza e la sua potenza riesce comunque a vincere. In esposizione tessuti, abiti, ceramiche, componenti d'arredo e le illustrazioni sulle varie fasi di realizzazione delle opere in mostra. Siamo molto contenti di poter ospitare, di essere una parte attiva in questo progetto che riguarda delle eccellenze della nostra città, quindi moda, design e appunto anche cultura, una maniera per raccontare quelli che sono gli artisti della nostra città con tanti progetti innovativi che speriamo possano essere anche un volano per giovani artisti per emergere, per raccontare quelli che possono essere i propri progetti. Alla presentazione dell'iniziativa con la giornalista Rosanna Cancellieri, gli organizzatori hanno espresso anche la volontà di restaurare il dipinto La Vergine Cristo e San Nicola di Paolo De Matteis, oggi custodito al maschio angioino. Oramai noi siamo la decima edizione dove noi parliamo sempre di moda e di design e noi siamo fieri di fare questa cosa a Napoli sempre perché Napoli ha molto di design. Nei giorni dell'evento si terrà una premiazione, sfilate di diversi atelier ed una cena di gala. Siamo contenti che ci siano questi giorni dedicati a questo progetto sperando appunto che sia una maniera anche per inaugurare l'estate.